La voce che sa toccare il tuo cuore, definito da tante ragazze, occhi di ghiaccio, la voce, la musica, è l'unico, Sassi, Sassi, Sassi. Direttamente dallo studio 1 di Ciao TV, e la musica continua, con Sassi, Sassi. Dalle ore 21 alle 22 e 30, qui su Ciao TV. Saluti, messaggi e sicuramente ogni settimana un ospite a sorpresa. E la musica continua, con il vostro Sassi.